Sanremo è finito, ha vinto Mengoni. È stato bellissimo vederlo così contento, ma che fine farà tra qualche anno? Sì, da questo momento il video diventerà uno sfogo, quindi se siete sensibili, schippate. Chi vince il festival ottiene tantissima notorietà, ma subito dopo viene dimenticato. E non dite di no, vi faccio dei esempi pratici. Che fine ha fatto Nilla Pizzi? Che fine ha fatto Carlabonio Tullio Pane? Non mi sembra di averli visti recentemente in tour o a fare ospitati in tv. E se state pensando, ok, è così, ma perché hanno vinto tanti anni fa, vi smentisco subito. Vedete lui? Francesco Gabbani. Ha spaccato il palco con Occidentali Scarma nel 2016 e adesso chi lo vede più? Nessuno tranne me. Ho scoperto cosa sta facendo adesso e sono qui per dirlo. Gabbani oggi scrocchia le ossa alle persone, sfogando tutta la sua rabbia repressa dovuta al suo insuccesso. Guardate. Fisso. Alzo rotondo. Si è incantato il video. Mi ha fatto incastare. Io sono Matteo Barresi, seguimi per altri scandali.